Buonasera e grazie a voi dell'invito, buonasera a tutti e buonasera a tutte. Io in effetti sono candidato per la lista Stati Uniti d'Europa, ho considerato che era necessario rispondere all'appello di Emma Bonino per portare avanti l'idea di cambiare l'Europa, una direzione di un'Europa federale, cioè un'Europa unita, un'Europa che ha la capacità, che ha gli strumenti per prendere le decisioni. La lista Stati Uniti d'Europa è l'unica lista nei 27 Paesi membri che fa della trasformazione dell'Unione Europea in un'Europa federale la sua priorità. Quando si dice questo vuol dire concretamente, ad esempio, cominciare per l'abolizione del diritto di veto e la fine della decisione all'unanimità, qualcosa che paralizza del tutto le grandi decisioni dell'Unione Europea. Possiamo prendere anche esempi di politica estera. Ad esempio non è possibile che un Paese di 10 milioni di abitanti che rappresenta un per cento del Pile europeo possa bloccare 25 altri Paesi quando decidono di prendere una decisione per sostenere l'Ucraina. Parla ovviamente dell'Ungheria di Orban, ma su tantissime materie. Oggi l'Europa è un elemento molto macchinoso che prende delle decisioni difficili e con grande ritardo e a volte non le prende. E non abbiamo più tempo, non abbiamo più tempo perché oggi l'Europa vive una policrisi e lo sapete benissimo, c'è una guerra alle porte dell'Europa, c'è una minaccia sulla costruzione, sulla costituzione d'Europa perché la sfida di Vladimir Putin all'Ucraina riguarda in realtà tutta l'Europa. E l'ha dichiarato, l'ha dichiarato che in qualche maniera l'Unione Europea era il suo nemico, ma abbiamo anche delle minacce economiche serie, abbiamo un'America che ha tendenza a tornare a una forma di protezionismo e dunque che è una sfida per l'Europa. Gli Stati Uniti devono rimanere assolutamente un partner, però non possiamo essere naif e pensare che di fronte alla decisione ad esempio degli Stati Uniti di favorire le imprese che producono negli Stati Uniti ovviamente crea difficoltà alle nostre imprese europee. Ti interrompo solamente perché tu sei un giornalista e lo sai, tutti questi temi noi vorremmo chiederteli e quindi secondo me possiamo procedere con le domande, anche perché questo tipo di spazio non l'abbiamo dato agli altri. Ok, mi scuso non lo sapevo, non conoscevo le regole e me ne scuso tutti. Intanto si accomodi. Non è assolutamente, è soltanto... No, perché altrimenti non ce ne andiamo. Sì, 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 ma poi stavi... No, scherzo. Eric è un collega che conosciamo da molto, profondo e conoscitore dell'Italia, abituato a fare domande più che a rispondere, però poi a forza di fare le domande ci si abitua anche a rispondere, quindi sicuramente ne avremo modo di constatarlo. Sì, allora lei è un giornalista francese, venuto da Parigi, giusto? Sì, sono nato a Parigi, ma sono europeo. Ecco, vado subito in Francia con le ultime dichiarazioni di Macron che dicono l'Europa in serio pericolo potrebbe morire e quindi la prima domanda che le faccio è, lei ha già espresso insomma delle tematiche importanti, dei pilastri, delle cose concrete da fare per l'Europa e la difesa comune rientra nel vostro programma? Assolutamente è necessario avere una difesa comune, ma dobbiamo essere molto franchi. non si potrà mai avere una vera difesa comune senza un governo europeo. Immaginiamo che riusciamo a mettere insieme un esercito europeo. La domanda è semplice, sapere chi decide di prendere la decisione che è la più seria, la più impegnativa per un dirigente politico. Mandare dei soldati al fronte eventualmente. Allora, non voglio prendere un esempio di vecchia data per non entrare nelle polemiche attuali, ma immaginiamo che nell'inizio degli anni 2000-2003 avessimo avuto già un esercito europeo. Guerra in Iraq. Francia e Germania sono contro l'invio delle truppe, Italia, Spagna e Regno Unito sono favorevoli. Non giudico sapere se era giusto o non andarci, però se non abbiamo un governo europeo legittimato democraticamente dai cittadini per decidere se mandiamo o no le truppe, non riusciamo a avere un vero esercito europeo. Dunque bisogna andare al di là della retorica e dire difesa, difesa, difesa europea. Certo, oggi possiamo fare una cosa che si è cominciato a fare, ma non abbastanza, di mettersi insieme per investire sull'industria di difesa, investire insieme, cercare di mettere insieme dei programmi. Però possiamo fare delle sinergie economiche e industriali per una vera difesa europea, come una vera politica estera europea. Non si può avere senza un governo europeo. Giuseppe Borrell, l'alto rappresentante, lo dice chiaramente. Ad esempio su Gaza dice che su Gaza ci sono tre posizioni, quelli che sono per il cessato il fuoco, quelli che sono per il cessato il fuoco immediato e quelli che non sono per il cessato il fuoco. Qual è la posizione dell'Europa? Non si può essere una voce dell'Europa. Investitura del Presidente Putin, della Federazione, ieri. Ci sono dei paesi come la Germania che non manda l'ambasciatore e ci sono altri come la Francia che manda l'ambasciatore. Non possiamo essere credibili perché i nostri partner, ma soprattutto i nostri nemici, giocano delle nostre divisioni. E dunque lo scopo attraverso gli Stati Uniti e Europa è di portare avanti l'idea che sembra molto lontano, però attento, le crisi accelerano molto le decisioni. Tanti mesi fa, non anni fa, chi avrebbe mai pensato che la Banca Centrale Europea avrebbe comprato indirettamente i debiti nazionali, oppure che avremmo comprato dei vaccini insieme, o che avremmo fatto il Next Generation EU. Tutte queste cose erano impensabili e dunque sotto la pressione delle crisi si prende le decisioni. Ma adesso veramente siamo sotto minaccia. E in una maniera molto forte l'Unione Europea è mortale. Si è mortale, perché è una costruzione imperfetta. E dunque l'idea è di portare avanti, compiere il progetto che è stato lanciato il 9 maggio 1950, che è stato per la prima volta formalizzato nel 1957 a Roma, di creare appunto la più formidabile invenzione politica della storia moderna, l'Unione Europea. Ma è che bisogna completarla e bisogna completarla ora. Parliamo un po' di economia, Eric. Nell'anticipare alcuni dei contenuti del suo rapporto sulla competitività in Europa, Draghi non ha parlato di nemici evidentemente, ma ha parlato di concorrenti più o meno spietati. Concorrenza che lui ha detto essere molto pronunciata all'interno dell'Europa tra player europei, ma con meno attenzione rispetto alla concorrenza dell'Europa nei confronti del resto del mondo. Citando ovviamente Cina e Stati Uniti come esempi fondamentali di queste dinamiche. Che cosa dal punto di vista pratico della governance può fare l'Europa secondo Stati Uniti d'Europa per migliorare questa situazione? Ma è giusto, è quello che Draghi, il rapporto di Draghi in qualche maniera è un rapporto per gli Stati Uniti d'Europa. Non è presentato così perché non è un politico. E poi Mario Draghi che è molto pragmatico vede sulle realizzazioni concrete e dunque in qualche maniera di fare gli Stati Uniti d'Europa di fatto senza cominciare a imprendere un cambiamento radicale dei statuti e dell'architettura istituzionale. Però chiaramente l'impianto intellettuale, potremmo dire ideologico, del rapporto di Draghi va verso gli Stati Uniti d'Europa. Dunque passa particolarmente con l'approfondimento del mercato, completare il mercato, quello che non è stato totalmente fatto, il mercato dei capitali, in modo che l'Europa sia in grado anche di mobilizzare anche il risparmio privato, non soltanto l'investimento pubblico. E poi l'altro elemento su cui parla molto Draghi è i beni pubblici, investire sui beni che i paesi da soli non sono in grado di garantire. C'è un elemento molto in cui veramente io cercherò in questo mese di campagna elettorale di portare avanti e che dobbiamo essere molto coscienti che quando parliamo di sovranità, la sovranità nazionale quasi quasi non ce l'abbiamo più. Nessun dei paesi europei rappresenta più di un per cento della popolazione mondiale. Xi Jinping è venuto di recente, in questo poi rispondo alla tua domanda, è venuto in Francia adesso e Hollande, l'ex presidente Hollande raccontava, io ogni volta che incontrava Xi Jinping mi diceva Presidente, la Francia, non mi ricordo più, quanti abitanti? E Hollande diceva, beh 70, 75, cercando di rialzare perché la Francia sono 68 milioni, di fronte a 1 miliardo e 400 milioni di cinesi, questo per dire, ma anche dal punto di vista economico, l'Italia è 2% del PIL mondiale, la Francia è il 3%, però abbiamo una fortuna, insieme siamo il 22% e se ci mettiamo insieme possiamo contare e lì Draghi dice per questo, per contare ci vogliono almeno due condizioni, in realtà lui ne dice tre, la prima è continuare a unificare il mercato e completa in qualche maniera il rapporto di Enrico Letta che dice noi è possibile di avere 23 codici commerciali, codici fiscali, bisogna di un'armonizzazione e dunque ci vuole veramente creare un spazio come gli Stati Uniti ce l'hanno e l'altro investire sui beni pubblici e investire sui beni pubblici sia da parte di investimenti sopranazionali come abbiamo conosciuto per il Next Generation 1, sia mobilitando il risparmio privato e il terzo elemento è assicurare le catene di approvviginamento. Abbiamo risposto a due domande perché anche la mia ultima non la faccio perché su Draghi penso che Rick sia d'accordo, faccio presente a chi ascolta come, soprattutto dagli ultimi due interventi, noi abbiamo avuto la precisa impressione di come ci sono veramente due Europe completamente diverse, questa che ha presentato Rick, quella che ha presentato Procaccini che nessuna delle quali nega l'importanza del concetto di Europa ma con profondissime differenze, quasi purtroppo dal mio punto di vista sembrano abbastanza incolmabili, tra l'altro Draghi qualcosa sulle istituzioni l'ha detta, per esempio non è la prima volta che lo dice ma la contrarietà assoluta al voto all'unanimità, Procaccini prima diceva esattamente il contrario, cioè la sovranità nazionale è ancora una leva molto importante sulla sensibilità delle comunità nazionali per dire l'Europa sì ma, voi siete uno forse dei pochi che non sicura diciamo della sensibilità ancora forse dominante e dice l'Europa sì senza ma. Uno dei temi più da attualità è quello legato alla democrazia, si dice che la democrazia un po' sia messa in pericolo anche in base a quello che sta succedendo appunto con la Russia, ha tante false democrazie, l'Europa accorre dei pericoli da questo punto di vista con le prossime elezioni secondo lei? Beh, sappiamo che ci sono delle ingerenze che sono state appunto pubblicate da giornali britannici che dicono che appunto ci sono delle ingerenze e la volontà da parte di alcune potenze di in qualche maniera inquinare il buon svolgimento democratico anche di queste elezioni europee, ci sono delle minacce costante da parte di alcuni paesi, in particolare la Russia, sappiamo che la Russia ha finanziato alcuni partiti, in particolare la Rassemblea Nazionale di Marine Le Pen, dunque dobbiamo prendere coscienza che ci sono dei nemici, ma io penso che il più grande nemico della democrazia è quando si eleggono dei rappresentanti e che questi rappresentanti non hanno più strumenti del potere, nel senso che arrivano al potere e è molto forte particolarmente in Francia, in Francia c'è l'elezione diretta del Presidente, c'è una forma di intronizzazione monarchica quasi e dunque si aspetta molto del Presidente, poi il Presidente arriva al potere e in realtà non ha più strumenti, perché le sfide sono molto più importanti della sfida economica, della sfida climatica, della sfida migratoria e dunque il Presidente a cui si aspetta molto in realtà non ha più i mezzi del potere, risultato che cosa si fa? Ma si prova uno di destra, poi si prova uno di sinistra, poi si prova uno che né di destra né di sinistra e il rischio è che la prossima volta proviamo una che rimetterebbe in discussione la tenuta democratica del Paese e almeno il processo europeo. E questo è il problema, perché io non voglio entrare nella polemica politica, forse sarei costretto a farlo in campanita orale, però attento a tutti i partiti che dicono adesso noi siamo europei, siamo europeisti, anche il Rassemblement Nazionale di Marine Le Pen adesso non parla più di uscire dall'Unione Europea o di uscire dalla moneta unica, però l'hanno sempre combattuto e anche dei partiti politici italiani qui, poi rimettono sopra l'Europa, però quando c'è la riforma del meccanismo europeo di stabilità bloccano tutti gli altri paesi e dunque io penso che sì, che ci sia un pericolo, il pericolo forse è forte e dunque i cittadini forse non lo percepiscano tale, però ci sono dei rischi sulla democrazia, sì. Bisogna vegliare. No, trovo molto, scusa mi prendo un minuto, molto molto interessante quella dinamica che hai descritto della necessità che l'elettorato ha di cambiare quando vede che il potere non riesce ad essere incarnato in realtà da nessuna figura. La tentazione ulteriore a cui probabilmente volevi arrivare è che è la convinzione che la democrazia non possa mai coincidere con un esercizio effettivo di potere e quindi con la possibilità di cambiare le cose. Questo è un rischio molto grosso ed è anche facile da far passare come idea, quindi un po' di attenzione su questo, torno sugli argomenti. Scusami, volevo dirti che quando arriverà Tajani, io mi scuso già ora, lo vado a prendere in modo che così sapete quando, fino a quel momento, libertà è anche con le domande. Chiedo scusa, io mi diverto a divagare un po'. Divagare, parliamo delle stesse cose, però non sono io quello che merito ascolto. I flussi migratori, un'altra cosa su cui l'Europa si è molto divisa, e anche qui c'è un problema di esercizio di potere, si arriva a compromessi che non soddisfano probabilmente, non danno una soluzione al problema e che però per qualche tempo permettono di dichiararsi tutti abbastanza soddisfatti. Voi come la vedete? Io sono un candidato indipendente sulla lista, dunque non so esattamente… Tu come la vedi? Esatto, non so se rappresentate, però una cosa su cui… La prima cosa, la prima cosa, essenziale, possiamo avere tutte le politiche migratorie che vogliamo, rimandare i migranti, però la prima cosa è non fare morire le persone in mare. Questo è la cosa, è un imperativo umano e dunque dobbiamo mettere tutte le risorse in modo che le persone non muoiono in mare e aggiungo che non è vero che c'è il famoso pull factor, che se si va a cercare le persone in mare ci sono maggiori onde, tutte le cifre, tutte le associazioni, tutti i rapporti dimostrano che non è vero. La seconda cosa è che l'Europa ha bisogno di migranti. Molti di voi siete operatori, imprenditori nel mondo dell'economia, abbiamo bisogno di mano d'opera, abbiamo bisogno di competenze, abbiamo bisogno di persone, di flussi migratorie. Il problema è che lo facciamo in una maniera dicendo all'inizio non li facciamo entrare e poi dopo facciamo delle false regolarizzazioni. Cioè diciamo vabbè, alla fine faremo entrare persone da fuori, in realtà le persone sono già dentro e li abbiamo lasciati per diversi mesi o addirittura diversi anni nell'illegalità. E dunque io penso che dobbiamo affrontare con un spirito anche pragmatico. Non nascondo che quando c'è l'arrivo di migranti per ogni collettività non è facile. Io sono nato in Francia da un nonno che veniva da Transilvania, da una nonna che veniva dalla Polonia. Io so benissimo che non è facile per il comitè d'accoglienza di avere dei migranti. In Francia avevo gli amici spagnoli, gli amici italiani e all'epoca, negli anni 70, oggi l'Italia e in Francia è proprio vissuta come grande ammirazione. È il paese di cui si vive bene, si mangia bene, che sa affrontare la vita. Però negli anni 70 ancora, quando ero bambino, non era così. E dunque io so che non è facile. Però io penso, e lì penso che dovremmo pensare anche in termini europei. È vero che ci sono delle zone in cui c'è meno bisogno di migranti e altre in cui c'è più bisogno di migranti. La stessa Ungheria che non vuole migranti, poi alla fine per le sue fabbriche, in particolare fabbriche automobilistiche, ne ha bisogno e li fa venire di nascosto. E dunque io penso che l'ideale sarebbe di avere un'agenzia europea dell'immigrazione che gestisca i flussi in collegamento diretto con le collettività locale e delle collettività locale che siano in coordinamento con il tessuto economico locale, che sa quali sono i bisogni e che sa quali sono le possibilità di accoglienza. Il vero problema oggi è una forma di retorica nazionalista che dice che non vogliamo i migranti, poi in realtà si rendono conto che c'è bisogno di migranti, c'è bisogno di migranti anche negli ospedali, c'è bisogno di migranti che poi sappiamo che in Italia i contributi dei migranti portano molto di più di quello che costano. E dunque ci vuole coraggio politico. Il coraggio politico passa anche attraverso l'Europa. Ma lei crede a questo piano Mattei? No. Vabbè, mi sono fatta il gol da sola però. No, no, ma abbiamo recuperato tempo. La domanda è la legittima. La parte che o è l'Europa che si muove insieme o se no ovviamente i nostri interlocutori non sono stupidi. Sanno benissimo che hanno tutti interesse a giocare sulle nostre divisioni. E' ovvio che la Libia una parte gioca il confronto più diretto con la Francia e l'altro lo gioca più diretto con l'Italia e gioca delle nostre guerriglie interne. Ma la stessa cosa per l'energia. dobbiamo muoverci insieme. Non ha senso di avere dei gruppi, grandi gruppi energetici che cercano di farsi la guerra anche se in realtà alla fine trovano loro degli accordi. Però il piano Mattei è un piano demagogico. Non ci sono le risorse. Non c'è la visione, non c'è il coordinamento. Poi termine Mattei. Io per carità penso che quando si va in Italia in quanto presidente o presidentessa del Consiglio italiano in Algeria che la prima volta che si va è di rendere omaggio a Mattei. Io penso che Mattei era un grande personaggio e ha fatto bene a sostenere la resistenza algerina per l'indipendenza. Dopodiché è ovvio che il messaggio che si manda a Parigi ti metto gli occhi, ti metto i ditti nelle occhi. È ovvio che è percepito così. Ma chi è il leader o chi può essere un leader in Europa? Che forse ha bisogno di un leader? Perché prima qualcuno, insomma, l'ospite precedente ha detto che la nostra presidentessa, come ha detto lei, potrebbe essere la futura leader d'Europa. Allora, io penso che il leader europeo oggi, nel momento, può emergere qualcun altro, ma chi ha la competenza, chi ha l'esperienza, chi ha la legittimità e chi è rispettato ovunque è Mario Draghi. Dopodiché se mi chiede chi è il leader in lì vado, so che forse sarà considerato come provocatorio, e lo faccio in modo provocatorio, se mi chiede qual è un leader in termini di coraggio, di difesa dei valori europei, al rischio della sua vita, dico il valore di Merzelensky. Beh, questa è una risposta molto forte. Qualcuno avrebbe scommesso che avrebbe detto Macron? Tra voi. Io sì. Anche per la che gli sta facendo da sfonda Draghi, quindi c'è anche un interesse collegato. Aspetta, Stefano, ti do il microfono. Ho soltanto risposto al fatto di sì, perché, a parte che non ha detto nessuno, ero invece convinto che lo dicessero in molti, ma credo che sia quasi naturale, perché è un tandem che hanno fatto chiaramente tra Macron e Draghi, quindi uno gli sta alzando la palla e l'altro schiaccia, quindi ecco perché credo che quello potrebbe essere. È ovvio che qui, soprattutto in quest'ambiente, e siccome veniamo tutti da quel villaggio di cui apparteneva anche Mario Draghi, siamo tutti un po' draghiani, se vuoi, quindi non siamo proprio obiettivi e obiettivi, e quindi forse per quello che c'era un tentativo di battere le mani, ma se poi verrà, sentirai che applauso che viene fuori. Quindi per il momento andiamo avanti così. Allora, aggiungo una cosa. Io ovviamente, ho scritto sempre per un giornale Liberation, che un giornale di sinistra, io mi riputo appunto un vecchio socialdemocratico. Ovviamente, ad esempio, so che Mario Draghi incarna un ala più social-liberale, ma io penso che l'emergenza oggi in Europa è tale che veramente queste differenze sono sottile e devono essere superate. Abbiamo veramente un'urgenza e l'importante è fare avanzare l'Europa, dotarli dei strumenti. Poi di più, dopodiché si può avere più o meno il sentimento sociale, ad esempio nel rapporto che sarà presentato da Mario Draghi, ma non era nel suo compito in qualche maniera, manca un po' l'aspetto sociale. Dopodiché penso che l'obiettivo di Mario Draghi è comunque difendere il modello di economia sociale di mercato europea. Dunque le convergenze ci possono essere tranquillamente. Devo anche essere più obiettivo, Mario Draghi è appartenuto al Canova Club, quindi capisci che c'è anche un'attitudine, quando non era Mario Draghi, quindi ecco il perché abbiamo una qualche tempo di sostegno, a prescindere, fatto dall'affetto e dalla stima di tanti anni, quindi è così. Mi appassiona l'argomento perché Mario Draghi è stato identificato qui in Italia come un'anima moderata tutto sommato, tant'è vero che è stato chiamato alla Presidenza del Consiglio in quanto capace di mettere insieme, tu lo sai, seguita politica italiana, forse mai così ampie nella visione del mondo, diciamo diversissime. Però devo dire che quello che ha anticipato del suo rapporto io lo trovo estremamente radicale, per nulla moderato e potenzialmente in Europa, e per questo io non credo che sia una candidatura verosimile, molto divisivo. Cioè Mario Draghi pensa non un'Europa grande, un'Europa grandissima, un'Europa unita, un'Europa che fa delle dimensioni, la sua caratteristica principale, della capacità di contrapporsi a blocchi e quindi essere lei stessa un blocco. Io mi ricordo quando ero ragazzino è uscito uno dei tanti edizioni di Godzilla, film americano, e il claim di quella pubblicità era le dimensioni sono importanti. Adesso ognuno può applicare il concetto a quello che vuole, però le dimensioni sono importantissime in quel rapporto, quantomeno in quello che lui ha anticipato di quel rapporto e per questo sono secondo me molto divisive. È stato talmente così che è già stato diviso? No, non sono affatto d'accordo. Ora diventa un dialogo ovviamente, non sono un avvocato difensore di Mario Draghi, sono che lo stima e lo conosce un pochino. Lui è estremamente pragmatico e ha le idee molto chiare, nel senso che sa che se continuiamo con questo tira e molla di bassa levatura non andiamo da nessuna parte. Quindi proprio perché sa, perché ha fatto tanti messieri che lo portano a dire questo e peraltro non è così moderato come tu pensi perché quando c'è una passione per altri tipi di cose è anche romanista. Io non lo penso, io ho detto che è stato scambiato per tale e non ho nemmeno detto che è estremamente deciso, ha studiato dei gesuiti, ha un suo background mica da ridere, quindi ha deciso di rompere gli indugi e sta giocando tutto. Ecco perché io sono convinto che chi ci crede deve seguirlo perché ha le idee molto chiare di essere deciso dove vuole andare. Diciamo, prego. Un secondo, se mi permesso, Mario Draghi è talmente divisivo che l'hanno fatto cadere in Italia, ma al di là di questo io penso che hai ragione, penso che ti do del tu perché ancora nel resto del vecchio resto del giorno. Io penso che in effetti un Mario Draghi che propone un cambiamento radicale darà fastidio a molto e a molti stati sovreni che pensano di ancora essere dei grandi stati. C'è questa battuta di Enrico Letta che trovo molto giusto. In Europa esistono due tipi di paesi, i piccoli paesi e quelli che non sanno ancora di esserlo e dunque continueranno a cercare di ostacolarlo. Dopodiché ci sono due elementi. Il primo è che la situazione è talmente preoccupante che io voglio credere che i cittadini europei si renderanno conto e anche i governi che non si può più scherzare. Molto spesso diciamo l'Europa sono 70 anni di pace, per un ragazzo suona un po' vecchio eccetera. Per un ragazzo dobbiamo dirgli traccia le frontiere dell'Unione Europea e vedrai che quasi ovunque dall'altra parte o hai delle guerre o dei regimi autoritari. non è una cosa seria. E dunque forse voglio credere che Holder Ring dice che là dove cresce il pericolo cresce anche quello che salva. Io spero questo. Però è anche responsabilità nostra di fare questa campagna elettorale. Di andare in campagna elettorale per dire non soltanto vogliamo Mario Draghi come leader ma vogliamo dire fare sentire che i cittadini europei sono pronti a dire noi vogliamo un'Europa politica, un'Europa unità, un'Europa che abbia strumenti della politica. Noi siamo il popolo europeo, ognuno ovviamente ha sentimento di identità francese, italiana, romanista, tedesca, però siamo europei, siamo il popolo europei. Sappiamo che ci sono molto più cose che ci uniscono che cose che ci dividono. Fuori i confini dell'Unione Europea, se si va in Cina, ci parlano come europei, ci vedono come europei, non è che fanno la differenza molto tra Francia e Italia. Abbiamo tante cose che ci riuniscono, il modello economico sociale di mercato, l'Europa ha il 50% delle spese sociali del mondo e dunque questo fa sì. Abbiamo una carta dei diritti fondamentali europei che rappresentano esattamente quello che siamo e dunque questo è il compito dei candidati e io è per questo che mi sono candidato. L'ho detto in un'intervista recente, io facevo il più bel mestiere del mondo, giornalista corrispondente per Liberazione, non so se è quello del cinema, è un giornale molto libero, originale, creativo e dunque giornalista per Liberazione a Roma, in Italia, facevo il più bel mestiere del mondo. Io quasi al 99% questo mestiere l'ho perso perché in Francia dal momento in cui uno fa il passo dall'altra parte, il fiume della politica non può tornare indietro. No, qui il contrario, invece. Allora, possiamo sacrificare due domande per dare spazio a voi, mi sembra insomma più corretto, sempre che ci siano delle domande. Prego, le do il microfono. Grazie, Cate. Allora, nell'augurio... Presente. Sì, sono il professor Bollino, io insegno economia, quindi sono il professor di economia. Nell'augurio che lei possa ripetere, come dire, Jacques Servant-Schrebert che nel 67 ha scritto le défi americaine come idea che la Francia deve guidare l'Europa di nuovo contro la competizione del resto del mondo, non so quanto sia vero, però le vorrei fare tre domande provocatorie sull'unanimità. Allora, la nuova Europa non unanime, a 27, 26, a 20 contro 1, dice che con Nutri-Score si elimina l'olio d'oliva italiano. Questo a noi ci ha dato fastidio. Seconda domanda, sempre visto che andiamo via l'unanimità, diciamo che le guide turistiche italiane, che sono le migliori per spiegare che cos'è il Colosseo, il resto del mondo, devono essere, secondo la Wolkenstein, di tutto, dal 100%, eliminate perché arrivano quelli che costano meno. Però le faccio la terza domanda. Se i verdi europei dicessero che domani il nucleare francese deve essere eliminato, 25-26, lei da citrilo francese cosa direbbe, visto che il vostro paese andrebbe a rotoli in 24 ore? Io, ripeto, sono cittadino europeo. Non è una battuta. Lo so che può sembrare una battuta. Io sul nucleare ho un parere molto contrastato. Ovviamente preferirei altre energie. Dopodiché bisogna essere anche lì pragmatico. Di fronte alla crisi climatica che affrontiamo, se non possiamo contare totalmente sulle rinnovabili, non dobbiamo scartare per forza il nucleare. Quando dico la crisi climatica, perché sentivo prima, c'è stata una domanda, io capisco la difficoltà per gli agricoltori. Sentivo prima l'ospite di Fratelli d'Italia che è stato interpellato su questo. Io mi rendo conto che non è facile quello che si chiede ai agricoltori e che c'è bisogno veramente di maggiore concertazione. Dopodiché, pochi giorni fa, ho visto un rapporto in Francia, dico la Francia perché l'ho letto su un giornale francese, in 40 anni sono scomparsi il 60% degli uccelli dei campi di campagna per la biodiversità. Abbiamo un'emergenza climatica, ce l'abbiamo, gli alluvioni, i disastri ambientali esistono e dobbiamo affrontarlo. E' sicuro che l'unanimità è una cosa complicata e rischiosa. Perché in effetti quando si mette in minoranza l'Ungheria di Orban che pesa appunto 10 milioni di abitanti, in qualche maniera si può andare avanti. Se si dovesse mettere un grande paese, grande per modo di dire, perché ripetiamo che tutti i paesi sono piccoli, diventa molto più complicato. Nel senso che, ad esempio, se si dovesse dire abbandoniamo il nucleare, ma non soltanto per la Francia, ma per tutti i paesi, alla maggioranza diventa difficile. Ma questa è la politica. La politica prevede due cose. Prevede la concertazione e la decisione. Se non ci sono questi due elementi, non funziona. Io, ad esempio, una cosa che mi farebbe molto male è se, ad esempio, l'Unione Europea dovesse rimettere l'eccezione culturale francese, che poi ormai si è un po' diffusa in tutta Europa, di pensare che appunto i prodotti culturali non sono dei prodotti che rispondono al 100% al mercato, sono prodotti diversi. E dunque questo sarebbe difficile, ma io voglio credere alla capacità e all'intelligenza politica di dialogare. Perché comunque quello che dice se non lo facciamo, se non facciamo questo passo, intanto perdiamo tutto, perdiamo tutti. Nel senso che non avremo nemmo più la capacità di discutere se vogliamo mettere il Nutri-Score un altro tema. Perché vuol dire che non decideranno più noi europei quali sono le norme. Quasi tutte le norme a difesa dei consumatori in Italia vengono dall'Unione Europea. Allora, la questione è se non lo facciamo, e ovviamente è difficile, perché sono delle scelte. Ovviamente, ad esempio, quando abbiamo deciso di fare il mercato unico, di fare Schengen, tutti quelli che erano alla frontiera e che tutti i commercianti che erano alla frontiera e hanno visto una parte del loro commercio crollare, non ce ne siamo resi conti. Tutti quelli che si occupavano di cambiare le valute. Quando passiamo all'ero, in effetti, perdono una cosa. Tanti hanno perso al momento in cui abbiamo fatto la moneta unica. Però adesso abbiamo la moneta unica, che è la seconda moneta al mondo e che ci permette, ad esempio, in periodi di crisi, di avere una banca centrale europea, di mobilitare dei capitali per difendere tutte le sue economie. Certo, ma questa è la politica. Chi dice che possiamo avere di tutto non è possibile. Ci sono dei rischi. E come dicevo io, Mario Draghi, non so al 100% sulle posizioni di Draghi, ma io voglio Mario Draghi, perché grazie a Mario Draghi si potrebbe avere la possibilità di un'area più forte e poi un giorno di avere un rappresentante dell'Unione Europea più vicino all'aspetto socialdemocratico che sono. ma se non si creano queste condizioni, allora non avrò mai un rappresentante molto legato alle mie idee che possa applicare il suo programma. Farà retorica. Scusami, devo ritornare perché tu hai parlato di Draghi, lo dici tu. Io ho detto soltanto che Mario Draghi è un pragmatico, whatever it takes, vuol dire questo, e rimane con quel tipo di approccio. E siccome stiamo aspettando sempre un ospite, quindi per tenere, che viene, quindi state tranquilli, buoni qui, come si dice. E se mi permettono una domanda, che non vuole essere provocatoria, ma siccome qualche anno che giro il mondo politico, e mi sono accorto di qualcosa che mi colpisce molto, perché in ambiente che frequento io, o che addirittura creo io, quando l'abbonino viene, abbiamo avuto spesso e volentieri l'abbonino nostro ospite, spesso e volentieri ci sentiamo, in questo ambiente, ci sentiamo abbastanza vicino l'abbonino. Per cui il problema che sorge a me, senza essere provocatorio, voi avete mai riflettuto perché in un certo mondo, decidero tu, come lo vuoi chiamare, avete un consenso intimo così forte da parte della gente che dice, mi ci trovo molto, per esempio anche quello che hai detto te stasera, credo che molte cose, questo ambiente dirà, siamo d'accordo. Perché poi al voto non esiste questa corrispondenza e se vi siete mai chiesti da che cosa dipende questo aspetto? Allora, non è provocatorio e io penso che le domande da giornalista devono essere provocatorie. L'unica cosa su cui mi è un pochino difficile rispondere è che io non sono membro di Più Europa o del partito radicale, ma cercherò comunque di rispondere. Io penso che il partito radicale è più Europa, soprattutto il partito radicale, ha avuto un grandissimo merito di vincere le batterie, in particolare le batterie civili, essenziali per il Paese e di essere una forma un po' di partito di coscienza morale per il Paese. Poi c'è stato un bellissimo documentario su Radio Radicale fatto da Gianfranco Panone in cui intervista Rutelli e che gli chiede un po' di raccontare attraverso la storia della radio anche il partito radicale e lui dice la forza del partito radicale è di non essere ideologico, nel senso di non porsi delle battaglie che non si possono vincere, cioè delle battaglie precise su cui si va a vincere e non tanto una visione più organica e più ideologica in qualche maniera. Io penso che questo sia una forza perché ha vinto delle battaglie ma anche una debolezza. Io voglio credere che la battaglia per gli Stati Uniti d'Europa in qualche maniera compensa e riassume, cioè nel senso di un obiettivo preciso, fine dell'unanimità, costruzione in un'Europa che decide, aumento del budget almeno al 5% del PIL europeo, oggi è 1%, si chiede molto all'Europa ma l'Europa è 1% dell'Unione Europea, è 1% del PIL europeo, mentre gli Stati Uniti, cioè lo Stato federale sono il 20% del PIL. Dunque una cosa molto pragmatica, concreta e nel stesso tempo che fa vedere che apre veramente un spazio molto più largo. In qualche maniera, Emma Buenino lo ricorda, riprende una vecchia citazione, dice comunque che oggi gli Stati Uniti d'Europa è un sogno e una necessità. In questa battaglia cerchiamo di congiugare queste due cose. Non so se ho risposto... Benissimo, benissimo, veramente molto bene, ti ringrazio molto, non so è stato almeno molto interessante quel che hai detto. Grazie, c'è spazio per un'ultima domanda? No, non dire ultima che non sai quando arriva, quindi lascia tranquilla perché... Ho notizie, se no ho notizie. Eh sì. Qui l'occasione è un po' ghiotta. Dossier Telecom, perché non la prima rete europea? Allora io penso che su Telecom io veramente mi sono occupato dell'argomento e io sarò molto franco, a un certo punto su Telecom Italia in particolare ho smesso di occuparmene perché c'erano talmente cambiamenti che il giornale non voleva più che mi interessasse. Ma sui Telecom io penso che ad esempio non forse tutti i Telecom, nel senso che ci vuole trovare il buon equilibrio tra intervento pubblico e mercato, che è la grande difficoltà politica. E quando appunto parlo tra socialdemocrazia, social liberalismo, cioè in realtà bisogno sempre, e non voglio fare il Macron che dice in même temps, però bisogna anche sapere su alcuni elementi, veramente fare un investimento in Telecom, in infrastrutture in Europa. Questo assolutamente, questo è una cosa di bene pubblico che a livello europeo si dovrebbe fare. E poi bisogna dopo avere gli operatori, ma mi sa che nel rapporto di Enrico Letta o forse quello di Draghi, non so più, che raccontava il numero di operatori che ci sono in Europa rispetto a quelli che ci sono negli Stati Uniti, ci sono quattro e in Europa ci sono una ventina, e questo non funziona. Però, diciamo, da quando Draghi col PNRR ha sistemato, ha migliorato la riforma della giustizia, l'Italia non è più un bunker, quindi sono venuti a investire tutti i fondi di investimento, c'è lo schema Autostrade, lo schema MMPS, Telecom, quindi diciamo perché non facciamo una quadra comune europea, perché già sarebbe una rete europea, cioè non si capisce, stanno tutti a investire qua, se vai a Via Veneto, cinque hotel dei sauditi, i sauditi comprano di qua, compro di là, e invece si fa la guerra tra Vivendi e il MEF, perché poi Vivendi ha pure denunciato il MEF alla consop francese, quindi non si capisce. Perché sono azionisti diversi, amico mio, voglio dire, fosse un unico azionista avresti ragione, ma voglio dire a lui, non so qual è stata la motivazione, ma Vivendi non è che fosse, quello non so che tu raccontavi, ma certo quello che ci ha rimesso Vivendi non è proprio una barzelletta, per cui come fanno? Sono azionisti, sono diversi ad essere messi d'accordo, è una bella utopia, credo che neanche Bonino sognerebbe di fare questo. Sì, appunto, sul mercato c'è bisogno di lasciare il mercato, però su alcuni investimenti, sui beni pubblici, lì deve intervenire una potenza, un potere pubblico europeo. Dobbiamo investire sulla ricerca, dobbiamo investire sull'innovazione e quando dico questo non so parole, il libro di Maria Mazzucato racconta che tutta l'esplosione delle nuove tecnologie negli Stati Uniti in realtà sono stati finanziati in partenza dalla ricerca, da ricerca fondamentale che era una ricerca finanziata dal pubblico, è quello che oggi manca in Europa e per questo ci vuole anche un mercato dei capitali europei per poter mobilitare il risparmio privato per poter anche orientare e finanziare questi investimenti. Grazie, io direi, è stata faticosa? Così, no? No, siete molto carini, molto carini. Grazie, noi invece la ringraziamo, le facciamo l'in bocca al lupo per tutto.